Prime ore da giocatore dell'Atalanta per Roger Ibanez al Centro Bortolotti per la firma sul contratto e per tutte le formalità di rito. Mi è piaciuta molto la struttura dell'Atalanta e l'accoglienza che ho ricevuto. Mi hanno già mostrato il centro, i campi da gioco e mi hanno accolto tutti molto bene. Per me questa è una nuova avventura, una nuova sfida, una nuova opportunità della mia carriera e spero di dare il mio meglio per la squadra. Ovviamente come ha anticipato Roger ha avuto l'opportunità di visitare il Centro Bortolotti di Zingonia dove si allenerà con l'Atalanta. La struttura è molto buona, molto bonita, mi è piaciuta molto la struttura, il centro è davvero molto bello. Penso che potrò adattarmi bene e rapidamente. Ho già visitato anche Bergamo e mi è piaciuta molto anche la città, davvero molto bella. Dovanda abbastanza di rito. Che cosa conosce Roger Ibanez dell'Atalanta, della sua nuova squadra? Sì, ho seguito l'Atalanta, è un grande club. Negli ultimi anni è sempre nella parte alta della classifica e sta facendo molto bene. Il campionato italiano è un campionato difficile, però sono molto felice di essere qui e sono orgoglioso di fare parte di questa società. Una domanda sui tifosi nerazzurri a chiudere questa prima intervista da giocatore dell'Atalanta. Conosco i tifosi dell'Atalanta, sono una tifoseria molto calda che dà un grande sostegno ai giocatori. Ho visto alcune partite, questo sicuramente molto bello. Spero di avere un grande rapporto con loro in futuro e insieme di raggiungere obiettivi importanti. Relazione molto buona tra gente. Relazione molto buona